Ciao voglio! Oggi mi vedrete in un'impresa mai provata prima, non è vero, qualcuno ci ha provato ma forse non è mai stata documentata Proverò a prendere dei brani che non ho mai visto, che non ho mai letto e proverò così a suonarli Quindi suonerò brani che non so suonare Prenderò 10 brani di 10 livelli differenti, solitamente un brano che si affronta al primo anno, un brano che si affronta al secondo anno, terzo anno di studio e così via E vedremo che cosa ne esce fuori, non garantisco nulla e abbiate pietà di me se farò degli errori Andiamo a vedere! Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!